...dare ad attaccare con i tempi giusti, perché se fanno un pressing isolato, vanno fuori tempo e possono andare in difficoltà. Sbagliato il passire, la ripartenza immediata del Napoli, una finezza per Insigne, Caillon, netto! Non è finita perché Basilischi, Napoli! Grandissima azione, colpo di tacco straordinario! Colpo di tappismo! Insigne per Caillon, sempre interpretarla molto bene. Higuain per Dybala che va d'esterno, alla ricerca di Sturaro, valutato in posizione regolare. Higuain carica il sinistro, respinto, Alex Sandro, va alla conclusione, è una rasoiata che non crea problemi però a Reina. Sinistra per poi cercare l'imbucata su Higuain. Sturaro va a cercare il quadrato, ma è corto il lancio. Allora Goulam, e Allegri non ha gradito, intanto però non funziona il disimpegno del Napoli, allora Higuain! Higuain! Era il gesto di Dani Alves con Insigne, c'è bisogno di fair play, di sportività, di abbassare la tensione, intanto Chiri che c'è sbaglia! E la Juventus non capitalizza con Rincon! Non gli puoi dare una palla così in orizzontale. Sturaro per Higuain, Higuain, controllo e tiro! Higuain! Il suo solito movimento, va incontro la palla, la stoppa, già lì ha pensato, in questo caso, ha pensato di calciare, subito sul primo stop e tirava sul primo palla. Mi sembra Reina che è partito in ritardo, non l'ha vista partire, gli è passato sotto le gambe dell'avversario. Il movimento di Higuain non ha trovato tempestiva l'opposizione di Chiri Cash. Sfruttare poi l'inserimento dei centrocampisti non è stato mai fatto. Insigne, Amsic. Altre caratteristiche Milik di Kudanerte. Giavara, Zilinski che ha visto l'inserimento di Amsic! Colpito in maniera precisa. Lo vede, lo vede Zilinski, è ottima l'assistenza. Questo primo tempo da Napoli, attenzione. Prova Milik! E va vicinissimo al pareggio! Date tante in questa partita, per usare un eufemismo, va Milik sul topo di Amsic e ha cercato, come ha fatto Iguain nei confronti di Reina. Insigne, Milik, controllo. Yusai, Kayejon, crossa di prima. Milik, neto! Su Amsic, prolungato possesso palla del Napoli. Insigne. Insigne per Kayejon. Amsic e Amsic! Perché il cross li devi fare con Milik in campo. Hanno fatto un cross Milik di testa, ha battuto a rete dove è stato bravo Neto. E poi qua, il gran gol di Amsic l'ha piazzato di piatto destro sul primo palo. E sempre lui, il giocatore detenato. Non ci ha pensato su due volte. E Neto stavolta, pur essendo di palla, che invita Quadrado. Quadrado, ferma la palla, non tira, cerca l'assist, Iguain! Una doppietta! E si alzano tutti dalla panchina della Juventus. Sale a 25 reti stagionali. Sì, valorizziamo anche la qualità della giocata della Juve. Alessandro. La lucidità di Quadrado. E arriva a rimorchio. Iguain indisturbato. Accenturare e colpisce. Tartiva, ancora una volta, l'opposizione di Chiri Keshe. Sì, diciamo che contro questi giocatori poi diventa difficile anche marcarli. Qui poi, nella tattica individuale, nello smarcamento, Iguain è un maestro. Come, quando e dove essere smarcare. Valutazione della prestanilica da parte di Roberto Rambaudi. Tato errore di Neto! Clamoroso! È appena entrato! E poi ha creduto che Neto sbagliasse in questa palla. Vedi? Non si è fermato. È andato. Crederci. L'eccesso di sicurezza di Neto. Il portiere della Juventus in Coppa Italia. Manca clamorosamente il facilissimo stop. E colpisce. Appena entrato. Questione di secondi. Mertens. D'altronde, con questo modulo. Intanto Cajona. Ottimo il controllo. Va sull'interno rispetto a Benatia. In zigna! In zigna! E il Napoli è in fantà! Che si sfoga con i suoi in panchina. Mentre Sarri ha chiamato tutta la squadra a rientrare subito nella prova a metà campo e a continuare a credere nell'impresa. E l'avevamo detto prima. Il Napoli, qualità per riprendere questa gara. Muitando i ritmi. L'ha fatto bene con una grande azione. Per quello Allegri aveva paura di tenere sempre con la...